Grazie 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 Dove sono le pesci e palla? Dove sono le pesci e palla? Sono sotto in basso Non è uno già Ma sono pesca Ma spiega che foto che fanno Non avete visto? Guardate 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 Sti qua Sai che ti facciano dei denti Guardate Guarda su Guardate 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 Sì, è bellissima, sembra ti attaccare. Sì, è bellissima. 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 è bellissima.